felice e paranoico nuovo anno a tutti ma ora parliamo subito di cosa mi preoccupa per questo 2020 incredibile non me lo aspettavo proprio dal suolo non li avevo sentiti poi casualmente volando come il drone attraverso il microfono del drone ho sentito un cinghettino di uccelli parlano tra di loro a nostra insaputa riflettendo dal suolo questo cinghettino non si sente e io adesso temo che gli uccelli stiano cospirando contro di noi abbiamo trattato male troppo male questo pianeta che è la casa di tutti e ora qualcuno ci vuole male grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti